Un buon pomeriggio dalla redazione di E-Live, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione che quest'oggi si apre con un'ampia pagina di cronaca, tante le notizie che passeremo in rassegna da qui ai prossimi minuti. La prima è quella di un tentato omicidio avvenuto negli scorsi giorni in città, nella zona della poliambulanza. Fortunatamente attualmente si parla ancora di tentato omicidio, la vittima però è ancora ricoverata nel nosocomio dei via Bissolati e ancora purtroppo in pericolo di vita. Alla base di tutto, secondo gli inquirenti, ci sarebbe una lite familiare. Ferito si trascinava lungo la strada in una pozza di sangue. Questa è la scena che si sono ritrovati davanti gli agenti della questura all'esterno di un'abitazione nei pressi della poliambulanza. L'uomo era stato accoltellato alla schiena dal cognato e subito gli sono state prestate le prime cure prima dei ricoveri nel nosocomio di via Bissolati, dove si trova ancora oggi in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto domenica notte attorno alle 2.30. L'aggressore, che era ancora all'interno dell'abitazione ed era chiaramente ubriaco, alla vista delle divise ha dato in escandescenza. Nel tentativo di arrestarlo, gli agenti hanno riportato gli evi ferite e durante la colluttazione il violento ha anche tentato di estrarre la pistola di ordinanza dalla fondina senza però riuscire nell'intento. Sentiti i presenti, le forze dell'ordine hanno potuto ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto le cause che dovrebbero risalire a una lite scoppiata durante una festa in casa. L'aggressore e sua moglie avevano infatti iniziato a litigare e quando il fratello di lei ha provato a difenderla ha tirato su di sé le ire del cognato, che lo ha pugnalato alle spalle con un coltello da cucina con una lama da 19 centimetri. Per il 38enne cileno, irregolare sul territorio italiano, sono scattate le manette in flagranza di reato per tentato omicidio e la misura è stata convalidata con custodia cautelare in carcere. Gli sono inoltre stati contestati i reati di danneggiamento, resistenza e lesioni. Ci è voluta una lunga notte di lotta contro le fiamme per avere ragione di un ampio incendio che è scoppiato nella serata di ieri a Montichiari in un capannone che stoccava dei materiali tessili quindi altamente infiammabili. L'obiettivo primario delle tante squadre dei Vigili del Fuoco che si sono alternate nelle scorse ore è stato quello di evitare che le fiamme si propagassero anche ai capannoni che stavano nelle circostanze e fortunatamente però i Vigili del Fuoco fanno anche sapere che non ci sono feriti. Notata di lavoro incessante per i Vigili del Fuoco di Brescia che a partire dalle 20 e 20 di mercoledì sono stati impegnati nel cercare di spegnere un vasto incendio divampato in un capannone di Montichiari. Fortunatamente non sono segnalati feriti ma come detto il rogo era di dimensioni non indifferenti e per riuscire a domarlo ci sono volute oltre dieci ore. Le fiamme sono partite nel capannone di una ditta di stoccaggio di tessuti e il rischio è che potessero propagarsi anche sulle strutture circostanti. Proprio per evitare questo sono state inviate numerose squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto di autobotti della chilolitrica e di un'autoscala. In tutto nella notte si sono alternate ben 18 squadre e 78 operatori che sono riusciti ad avere la meglio sull'incendio solo alle 7 di mattina. Successivamente sono rimaste in loco 4 squadre per la bonifica e la messa in sicurezza del sito. Attualmente i Vigili del Fuoco fanno sapere che non sono note le cause scatenanti. Gli agenti della polizia stradale gli avevano imposto l'alt da un posto di blocco nell'autostrada a 35 Brebemi nei pressi di quello che è il casello di Romano di Lombardia quindi siamo nella Bergamasca però parliamo della polizia stradale del distaccamento di Chiari ebbene quest'uomo la guida della sua auto ha deciso invece di fermarsi invece di accelerare e ne è nato un inseguimento lungo una trentina di chilometri in direzione Milano la fine però è stato arrestato. Era il 26 ottobre quando una pattuglia della polizia stradale di Chiari aveva imposto l'alta un'automobile sulla 35 all'altezza del casello di Romano di Lombardia. L'uomo alla guida del mezzo invece di accostare ha però accelerato tentando di fuggire dagli agenti. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità andato avanti per circa una trentina di chilometri in direzione Milano durante il quale il fuggitivo ha anche tentato più volte di seminare le divise con manovre azzardate e pericolose con sprezzo per la sicurezza degli altri automobilisti che in quel momento stavano viaggiando sulla stessa strada. Dopo decine di chilometri percorsi a folle velocità gli agenti sono riusciti ad affiancare l'auto e a stringerla contro il limite della carreggiata chiudendo di fatto ogni possibile via di fuga. Capendo la situazione l'uomo ha provato a dileguarsi nei campi a piedi ma è stato raggiunto e dopo una collutazione arrestato. La perquisizione personale ha permesso di recuperare una busta di marijuana e un bilancino di precisione e quindi questo cittadino straniero irregolare è stato arrestato, processato per direttissima e rinviato a giudizio per resistenza e lesioni. Ora si trova nel carcere milanese di San Vittore. Ci spostiamo ora dall'altra parte della provincia per la precisione a Desenzano del Garda dove il nervosismo di un automobilista a sua volta fermato per un normalissimo controllo di routine ha incastrato questo pusher che pensate nascondeva la cocaina nella biancheria intima. Fermato per un normalissimo controllo in viaggiotto a Desenzano del Garda fin da subito ha attirato l'attenzione degli agenti per il suo palese nervosismo ed effettivamente aveva qualcosa da nascondere nelle mutande. Le divise gli hanno imposto l'alta attorno alle 19 e alle prime domande questo 31enne si è subito mostrato agitato. Allora gli agenti del commissariato della cittadina hanno deciso di effettuare una perquisizione che in poco tempo ha portato alla scoperta di una confezione di plastica ben nascosta nella biancheria intima. All'interno dell'involucro c'erano 13 dosi di cocaina pronte per la vendita, un totale di circa 30 grammi. Dal suo zainetto è inoltre spuntato il classico bilancino di precisione portatile, oltre a 300 euro in contanti, che le forze dell'ordine ritengono possa essere il suo guadagno ottenuto con la vendita della cocaina. A questo punto è stato inevitabile l'arresto per detenzione e spaccio di droga. Il Covid ora con i dati sulla diffusione del contagio che come di consueto andiamo a passare insieme in rassegna sul nostro sito internet www.livebrescia.tv sul quale come sempre troviamo l'articolo dedicato con il bollettino nazionale e regionale che leggiamo ora insieme. Tanti tamponi quelli processati nell'ultima giornata ma positività che rimane stabile allo 0,4% e rimane quindi molto bassa. Sono 90 i nuovi casi Covid riscontrati a Brescia. Abbiamo detto che ci sono comunque buone notizie sul fronte di quelli che sono i nuovi contagi perché a fronte di 143.223 test analizzati sono 682 i nuovi positivi emersi. Abbiamo detto della positività che con i tamponi più che triplicati rispetto alla giornata precedente rimane stabile allo 0,4% ed è anche molto inferiore a quella che è la media nazionale. 90 sono i contagi relativi a Brescia e provincia. Secondo incremento regionale dopo Milano che ne fa segnare invece 236. Seguono poi le province di Monza con 81, Varese con 62 via tutte le province. La provincia che registra meno contagi, l'unica al di sotto della doppia cifra è Sondrio che ne registra 3. Non ci sono invece in questo bollettino buone notizie sul fronte dei ricoveri perché dopo alcuni giorni di calo tornano a crescere in doppia cifra, un numero abbastanza importante i ricoveri in area medica più 24 e quindi i posti letto occupati tornano sopra quota 300, 317 per la precisione. Aumento anche per quanto riguarda le terapie intensive ma in questo caso minimo un più 1, i posti letto occupati sono 49. Aumento purtroppo lo riscontriamo anche nelle segnalazioni di decessi. La giornata precedente avevamo visto appunto che c'era 1-0 in questa voce triste del bollettino. Quest'oggi invece i decessi segnalati sono addirittura 10. Proseguiamo sempre parlando di Covid e in realtà con un progetto regionale che possiamo dire Brescia in un certo senso aveva anche anticipato. Infatti nei giorni scorsi vi avevamo parlato di questo studio primo al mondo del civile di Brescia su quali che sono le ripercussioni dei Covid in forma acuta a distanza di un anno dalle dimissioni dalla terapia intensiva. Ora questi studi sul post Covid saranno effettuati anche a livello regionale con un progetto voluto caldamente dall'assessore Moratti. Un programma di monitoraggio sul danno polmonare per i pazienti che sono stati ricoverati in ospedale durante l'emergenza Covid. In questa direzione la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessora al welfare Letizia Moratti, obiettivo studiarne lo stato di salute. Riteniamo utile offrire in modo diffuso e articolato un programma di screening polmonare ai pazienti che sono stati ricoverati a seguito della pandemia, ha detto la Moratti. Contestualmente portiamo avanti un'attività importante e significativa di studio e ricerca del virus. Una percentuale significativa dei pazienti Covid e dimessi, fra il 20 e il 40%, a distanza di mesi dal ricovero accusa sintomi respiratori. Sebbene in effetti una quota di essi sia stata presa in carico dalle strutture ospedaliere regionali, molti di loro restano ancora senza un'adeguata risposta clinica. Il programma di monitoraggio coinvolgerà le pneumologie e i servizi di fisiopatologia respiratoria delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture sanitarie private accreditate a contratto, che aderiranno ovviamente al progetto. Per l'attivazione del programma di monitoraggio, Regione Lombardia ha messo a disposizione risorse fino a un milione di euro. Sarà ora compito delle varie ATS verificare quali strutture vorranno prendere parte o meno al progetto vero e proprio. Nei giorni scorsi ha sicuramente fatto discutere la decisione di Treni Italia di tagliare le corse mattutine dei treni Frecciarossa nella stazione di Desenzano del Garda. C'era stata un'alzata di scudi tanto dalle autorità locali quanto dai pendolari, che ogni giorno devono trovarsi ad affrontare difficoltà ben più grandi, non avendo più i treni dell'alta velocità che fermano sulla linea forse più importante d'Italia, la Milano-Venezia. Ebbene, a questo punto scende in campo anche Regione Lombardia. Lo fa con l'assessore competente Claudia Maria Terzi, che ha scritto all'amministratore delegato di Treni Italia e l'ha anche convocato. ha chiesto la disponibilità per poter fare un incontro con tutte le parti coinvolte e quindi scongiurare questo taglio. L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Terzi ha scritto una lettera all'amministratore delegato di Treni Italia, Luigi Corradi, per chiedere alla società statale di non ridurre i servizi mattutini del Frecciarossa a Desenzano del Garda sulla Milano-Venezia. Treni Italia ha deciso di ridurre i servizi a Desenzano dei Frecciarossa in orario mattutino, ha spiegato l'assessore Terzi, e questo rappresenta una difficoltà per gli utenti. Ho chiesto alla D. Corradi di rivedere questa scelta. L'assessore ha dichiarato di come questa scelta sia stata decisa da Treni Italia senza interpellare la Regione. La riduzione dei servizi Frecciarossa contraddice l'impegno che sta portando avanti la Regione per ottenere la realizzazione di una nuova stazione sulla linea alta velocità proprio a Desenzano, a continuo all'assessore. Va anche detto che da alcuni anni prevediamo un contributo per gli abbonamenti di pendolari che utilizzano l'alta velocità, in modo da compensare la tariffa maggiore applicata da Treni Italia. La cancellazione delle fermate è in contraddizione anche rispetto a questa azione di sostegno agli utenti. Per scongiurare la riduzione, l'assessore Terzi ha chiesto inoltre la disponibilità ad effettuare un incontro con le parti coinvolte. La nostra pagina sportiva, ora che dal consueto azzurro che contraddistingue un po' quello che è lo sport bresciano, si tinge completamente di rosso perché nella giornata di ieri è stata presentata la prossima edizione, l'edizione 2022 della Mille Miglia, della corsa più bella del mondo. Ci sono tante novità sul tavolo, le scopriremo man mano, ma è principalmente il percorso che dall'esperimento dello scorso anno da anti-orario torna in senso orario. L'altra novità, insomma, che in realtà è una conferma di quella che è stata l'ultima edizione, la Mille Miglia quasi estiva disputata a giugno, sentiremo anche quali sono i vantaggi di queste nuove date, inoltre un nuovo presidente del CDA di cui appunto sentiremo le parole fra poco. Prima però sentiamo quello che è stato la guida delle ultime edizioni della Freccia Rossa, Franco Gussali Beretta. Il cambio della guardia, ma insomma, il suo affetto per la Mille Miglia, insomma, quello prosegue, c'è? Quello sicuro, anzi rafforzato perché dopo questa incredibile esperienza la passione c'era già. Poi adesso è stata completata da questa grande esperienza di fare prima il vicepresidente a fianco di Aldo Bonomi e poi il presidente con una squadra fantastica, sia nel consiglio che una squadra interna e quindi assolutamente è stata una bellissima esperienza e l'affetto rimane sempre più forte. Hai gestito una delle Mille Miglia, insomma, più difficili, le due più difficili, credo. Il Covid sicuramente non ha aiutato in questi ultimi due anni, il 2020 è stato particolarmente complicata l'organizzazione, però di nuovo grazie alla squadra ce l'abbiamo fatta e grazie anche al supporto naturalmente delle istituzioni che dandoci dei paletti, delle limitazioni, ma ci hanno consentito di continuare questo evento perché era particolarmente importante continuare anche in un periodo così difficile perché sono eventi talmente complessi che non si possono accendere e spegnere. Bisogna continuare anche in mezzo alle difficoltà e con delle limitazioni e quindi dei nuovi protocolli di sicurezza, ma devono essere eventi che continuano e anzi crescono. Questi due anni hanno aperto anche un'evoluzione, la Mille Miglia anche quest'anno per scelta, quindi di scivola a giugno e si è visto che era stata una scelta obbligata. È piaciuta? Assolutamente perché come è stato detto nei discorsi il fattore climatico è sempre stato un po' un'incognita della Mille Miglia e quindi andare verso un periodo dove c'è assolutamente non la certezza ma forse una possibilità che ci sia tempo migliore e poi come ha detto giustamente Alberto Piantoni le ore di luce perché per guidare queste macchine le ore di luce sono molto importanti e quindi avere qualcosa di più aiuta sempre. Come abbiamo detto Gussali Beretta al termine del suo mandato cede il testimone della Presidenza, lo lascia a Beatrice Sautini e allora sentiamo le sue prime parole proprio da Presidente del CDA di Mille Miglia SRL. La Mille Miglia è un pezzo di Brescia, è un pezzo della vita e della storia di Brescia, io stessa con la mia famiglia ne sono la rappresentanza, quindi è un modo per dire che Brescia c'è, forte delle sue tradizioni e volta al futuro. Queste erano solo alcune delle voci raccolte nella conferenza stampa di presentazione della Mille Miglia 2022, tutte le interviste le potete trovare nel focus, nel approfondimento dedicato che lo trovate a Trinondo ovviamente sul nostro canale di E-Live ma anche su tutti i nostri canali web come ad esempio l'E-Live Play o il nostro sito internet sul quale vi porto un'ultima volta prima di salutarvi a livebrescia.tv per ricordarvi che qui appunto trovate in aggiornamento tutte le notizie, trovate la diretta di E-Live in questa finestra visibile anche dai vostri telefoni, dove se volete le notizie potete riceverle semplicemente iscrivendoli, eccoli qua ai nostri canali Telegram, E-Live News, E-Live Brescia, sport ed è davvero il modo più facile, semplice e veloce per rimanere informati in tempo reale. Grazie per averci scelto anche quest'oggi per la vostra informazione, rimanete con noi, tornate con noi questa sera alle 19 come sempre un nuovo appuntamento con il telegiornale, nel frattempo un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a presto.